il triangolo ancora sballa canestro per barnella che affida nuovamente a marco spi sbaglia che vinceri affida poi nel tentativo di recuperare la palla direttamente a spi ma da 2 8 a 0 è marcato da benzi da terra praticamente riesce a seguire sul taglio a rendere il favore tripla che fa a bersaglio e viene segnalata buona arma la mano di tyler kalinoski specialità della casa da quota 41 punti qui indisturbato itanepi due secondi per trovare un tiro per sassari riesce a recuperare il pallone la difesa brecciana e poi portolani si iscrive alla partita per david milan tornato in campo portolani per winniss con la schiacciata mostra ai muscoli il numero 21 trofford schiaccia a terra per portolani che prova a liberarsi della marcatura di stissu barnell contro portolani giro su pedefermo si aiuta con la tabella classica azione di jason barnell willis contro up penetra il canestro benzius in penetrazione dicesimo assist della partita di sassari willis che supera la spesa di up e fa incidare la schiacciata calinoski si becca la stompata di miro vilano partire in con su piede sassari sotto pizzo per benzius 19 per il banco willis la schiacciata riducca il proprio season ice stagionale recupera il rimasto per il numero 12 di proprietà dell'olimpia milano grazie a tutti grazie a tutti